Un saluto a tutti cari amici, bentornati finalmente su Ventaglio Podcast. Oggi è lunedì, ma non sarà una nostra classica puntata del lunedì. Pensi sarà uno speciale sulla Vuelta in Spagna e in particolare sulla terza tappa che si è disputata oggi. 158 km da Suria a Darinsal ad Andorra. Vittoria per Remco e Venepool, che però ci ha lasciato il brivido nel finale, ma poi ne parleremo e ne parleremo con Riccardo Zucchi. Ciao Riccardo! Ciao Gianluca! Un bagno di sangue è stato, dai, questa tappa! Letteralmente, soprattutto per Remco, che una volta tagliato il traguardo e dopo aver vinto in scioltezza una volata ristretta al termine della salita finale, si è schiantato contro le persone che sono solitamente dopo l'arrivo, è caduto, si è tagliato qua, sostanzialmente, che è una zona tra l'altro ricca di cose, di vasi sanguini, e quindi si è sostanzialmente imperlato la faccia di sangue, sembrava una maschera di sangue, letteralmente, speriamo che questo non abbia conseguenze, anche perché il Remco visto oggi è garanzia di spettacolo per le prossime 18 tappe. Sì, anche non solo Remco oggi si ha vinto alla grandissima, ma non solo, perché comunque sono arrivati segnali importanti da alcuni avversari e si preannuncia una corsa spettacolare, ecco. Ma andiamo a ripercorrere un po' la tappa di oggi, fuga a 11 che ha preso un bel po' di margine, direi attorno ai 5-6 minuti, fuga abbastanza particolare perché comprendeva al suo interno anche Damiano Caruso e Lennar Camna, due corridori che potenzialmente potevano anche ambire una top 10, e sono stati infatti loro due gli ultimi ad essere ripresi sull'ultima salita, quando poi il gruppo si è andato via via selezionando, ha fatto il ritmo la UAE Team Emirates per Aiuso ed Almeida, soprattutto per Aiuso direi che mi sembrava quello un po' più in palla oggi, il primo scatto l'ha fatto proprio Aiuso, poi ha provato ad andare in avanza scoperta Formichina Sepkus, che io in questi giorni davo come capitano della Jambovismo un po' per scherzare con gli amici, anche perché al fantasiclismo a 10 poteva essere un bel colpo, poi in realtà non penso fare al capitano, è stato ripreso anche lui, stoppato da Marc Soler, una volta ripresi poi c'è stato quell'attimo di impasse che ha permesso al gruppo di ricompattarsi, infatti sono arrivati sostanzialmente una ventina di corridori a giocarsi il successo finale, volata lanciata ai 200 metri circa da Evenepul che si è messo davanti e nessuno l'ha più visto, secondo Jonas Wingard, terzo Juan Aiuso, quarto un primo Zerogrich non brillantissimo soprattutto nel finale ma potrebbe star risparmiando energie, non lo sappiamo, poi Marc Soler, Henrik Maas in formato vuelta, Lanny Martinez e Sean Wittebrooks che assieme a Evenepul e Aiuso formano un po' la compagine giovane di questa top 10, poi João Almeida e Alexander Vlasov a chiudere la top 10. Tanti corridori di peso anche staccati e li andremo a vedere dopo, però intanto vi dico quella che è la nuova classifica generale con Remco Evenepul, nuova maglia rossa, davanti a Henrik Maas, Lanny Martinez, poi Wingard Vlasov, Wittebrooks, Bardew, Wittrago, Kelderman, Roglic che va a chiudere la top 10, sono tutti abbastanza vicini tra il quarto e il decimo posto, ballano 4 secondi tra Wingard e Roglic, quindi poco da dire, però Evenepul ha già 31 secondi di vantaggio su Wingard, per dire. Sì, rischiano di essere nulla, perché comunque Wingard oggi è forse l'unico che è riuscito un po' a rispondere sullo scatto, poi ha pagato un po' nel finale, gli altri hanno faticato leggermente di più, e ti aggiungo sulla storia Giambovissima, anche Benny Kelderman che ha chiuso nella top 10 e si era mosso quando aveva attaccato Bardew, e chapeau alla Movistar che l'altro giorno non ha conquistato la Kronosquare per portare Rubio nel finale, nei 5, e oggi Rubio ha perso più di un minuto, scusate, ma nell'altro giorno quando ho letto che Rubio è il quinto della Movistar nella Kronosquare hanno perso per centesimi, mi sono fatto due domande, e Aiuso, Pimpante, volente rosso di mettersi in mostra senza paura di attaccare, direi, ma come al solito alla volta rinasce, curioso di vedere Danny Martinez e Jurt e Brook sulle tre settimane, perché sono due dei giovani più interessanti del panorama internazionale, ma intanto Renko piazza una prima stoccata e anche le critiche alla sua squadra non è tanto forte, non è in grado di reggere oggi nel finale, prima che iniziassero gli scatti, erano comunque 4-5 corridori. Assolutamente sì, però sono tanti corridori che hanno pagato, il primo che andrei a citare è Garen Thomas che ha perso 47 secondi, scortato sul traguardo da un ottimo Egan Bernal che è rimasto più a lungo di Thomas nel gruppetto principale, non dico che Thomas dice addio alle velità di classifica generale di podio, però è sicuramente una bella botta, più che altro ha iniziato a soffrire molto lontano dal traguardo quando invece gli altri big sembravano in carrozza, perché la sensazione oggi è stata quella di Evenepul e Winger, soprattutto secondo me abbastanza in carrozza, Iuso ha provato a forzare, quindi secondo me si è sposto un po' di più, però male Thomas, certo, non tutte le ciambelle escono col buco, ma attenzione perché la volta è ancora lunga di spazio per riprendersi e recuperare, ce n'è. Sì, diciamo giornata complessivamente negativa per la Gran Bretagna, perché se andiamo a pensare agli altri big che hanno perso, c'è Dunbar che ha perso tantissimo e tra l'altro Zana è arrivato davanti a lui, quindi segno che forse non stava per niente bene, si è lasciato Carta Bianca, un corridore che l'altro giorno ha perso terreno nella Cronosquare rispetto a lui, male Iucarti, perché comunque ha perso 1,14, è un anno no per Iucarti, ma è un'altra prova negativa, male direi anche Ighita che perde sei minuti e dimostra che forse le classifiche generali sui grandi giri, oddio, credere all'esogio assoluto in un grande giro, ma comunque rivedibile sotto questo punto di vista, però è chiaro il nome che fa più eco è sicuramente quello di Geraint Thomas, anche perché comunque Aresman non brillantissimo, ma è arrivato davanti a lui, quindi anche Casainios potrebbero ragionare su un'alternativa diversa. Sì, però anche Aresman era veramente tirato, tirato a rimanere con i migliori, tra gli altri corridori staccati Bardet, 31 secondi. Ma Bardet comunque ha detto che non puntava la classifica. Sì, sì. Però, intanto... Ma quando lo dice fa sempre un grande giro, però... Esatto, staccato anche Michel Landa a minuto e trenta, staccato D'Ambar, abbiamo già citato, Bookman, Higuita, direi che abbiamo detto quasi tutti, anche Max Paul ha preso più o meno dieci minuti, quindi se avevamo dei dubbi su di lui non farà classifica per la gioia di coloro che l'hanno portato al fantasiclismo. Pensa che c'è chi ha portato lei, dai. Quindi, niente, tante cose che si sono viste oggi, certo, era solo un assaggio di vuelta, quindi aspetteremo poi altre tappe per capire quello che succederà, come ad esempio la sesta fino all'osservatorio astrofisico di Javalambre, che sarà il prossimo arrivo in salita, sesta tappa, quindi... giovedì, venerdì? E... sesta tappa è... Giovedì. Giovedì, giovedì. E... e soprattutto bisognerà capire come sta Renko e Venepul, perché è certo una vittoria importante che però nell'economia della corsa potrebbe addirittura essere una tappa negativa per lui. ha messo e non concesso che poi domani riparta e che non abbia subito commozioni cerebrali o concussion che gli impediscano di ripartire, perché sarebbe veramente il colmo dei colmi. Sentiremo ancora una volta parlare di paura di Renko a sfidare gli altri dopo averli mazzolati a destra manca. No, da quel punto di vista è preoccupato... perché lui poi si è rialzato... è stata un po' preoccupante la scena, infatti anche io ho pensato a livello commozione cerebrale quando saliva sul podio, perché barcollava proprio. Poi mi auguro sia solo, comunque, per aver perso tanto sangue e comunque la fatica dopo una salita e si concluda con nulla di fatto. Mi ha spaventato quella scena. Certo, sarebbe la seconda volta... stiamo parlando veramente del nulla, eh? Ma sarebbe la seconda volta che vince la tappa e conquista la maglia e si deve ritirare. Speriamo non doverlo prendere in considerazione, però per me rischia di essere negativa per un altro aspetto, soprattutto. perché oggi mi è sembrato che in casa a John Bovisma Vingegaard forse sia più pimpante, abbia le gambe più sciolte rispetto a Roglic. Invece noi ci aspettavamo un po' il contrario, magari. Esatto. Su un arrivo del genere ti aspetti più Roglic. Soprattutto perché Roglic ha improntato la preparazione della seconda parte di stagione sulla volta, mentre invece Vingegaard arrivava un po' più... un po' più di rincorsa dal Tour de France. Sì, 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 vediamo. È comunque il primo arrivo in salita, magari Roglic ha fatto una preparazione più pesante per arrivare con gambe più migliori nella terza settimana, mentre magari Vingegaard va incalando. È la prima tappa, eh? E come al solito sappiamo qualche corridore che non potrà vincere la Vuelta, ma non sappiamo ancora chi la potrà vincere, ecco. Sì, ci ho detto abbastanza assurro quello che è successo a Vene, adesso sto un attimo riguardando. Solitamente c'è un buco, cioè c'è una zona in cui sono preposti per stare i fotografi, i massaggiatori, i fotografi. Poi i massaggiatori sono molto più lontani rispetto al traguardo per dare il tempo ai corridori di rallentare quasi naturalmente. Invece in questo caso c'era proprio un muro di persone che sostanzialmente non lasciava spazio per passare e Venepul si è preso un po' il suo tempo per esultare, non è stato sicuramente attento, ma non ti aspetti in una corsa del genere di trovarti davanti un muro di gente e soprattutto con poi la ragazza che, poverina, è stata colpita che non si è spostata neanche troppo velocemente. Ecco, mentre si stava creando uno spiraglio per passare lei è rimasta un po' in mezzo. Sì, purtroppo è asfalto non bellissimo dopo il traguardo e anche mi pare fosse in discesa subito la strada, quindi magari Venepul insultando, c'erano un po' di curve, non ha visto e quando ha preso troppa velocità non c'è stato modo né per lui di schivarla completamente né di lei di accorgersene ed è successo qualcosa che speriamo rimanga in una particolarità di questa volta, una delle immagini di questa volta e basta che non abbia conseguenze realmente perché credo sia giusto avere lo spettacolo fino alla fine e vinca il migliore. È quello per cui facciamo sempre il tifo. Ogni tanto viene veramente da pensare che non ce la faremo mai perché succede sempre qualcosa. Tra l'altro Welta che, come ben sapete, in questi primi giorni è stata abbastanza tartassata dal maltempo. Anche oggi c'è stato un po' di vento che ha falcidato. Non vorrei che pure quello ha influenzato un po' sulla distanza che avevano le persone dopo il traguardo e magari c'erano delle barriere che non hanno potuto mettere. Stavo pensando adesso. Vediamo, speriamo realmente che domani già non parliamo più di questo evento. Esatto, speriamo che sia solamente un ricordo simpatico poi da raccontarci a fine Welta nel caso in cui tutto per Renko vada bene o anche che non vada bene come uno dei momenti da blooper del terzo grande giro della stagione e che poi tutti i corridori più attesi possano dare il meglio da qui fino a Madrid. Finiamo, sì? Sì, in Madrid, in Madrid, in Madrid come al solito. Solo, beh, niente non faccio polemica. Dai, almeno adesso si pare che si è deciso si fa in tot città e non c'è un cambio ognuna dall'altra parte. Ma sì. Diciamo che tra che questa Welta sta facendo rivalutare il giro in questi primi giorni anche ieri, credo. la scena più comica sia quella della giuria perché non c'è quella immagine della giuria a chiedere le foto ai tifosi per sapere chi è passato prima al traguardo volante cioè ai nove chilometri è veramente comica e poco professionale. Sì, comunque adesso sto rivedendo le immagini quelle che trovo insomma c'era poco spazio comunque per frenare quindi sicuramente errore di Renko sicuramente non è il modo in cui mettersi in cui mettere in sicurezza un arrivo in cui comunque sai che c'è la possibilità che questi arrivino sparati perché comunque ha fatto un volo allucinante sto vedendo adesso un'immagine di Eurosport a Francia il volo è terribile mi spaventa questa caduta ecco come detto speriamo speriamo in bene tra l'altro prima vittoria con la maglia di campione nazionale direi sì abbiamo marcato anche questa insomma check aspettiamo la prima vittoria in maglia di campione del mondo a cronometro ma potenzialmente penso sia abbastanza dietro l'angolo ammesso non concesso che riesca a continuare senza ulteriori problemi fisici dai diciamo che tra otto giorni potrebbe essere l'occasione perfetta ecco Remco l'abbiamo già perso al giro e io sono ancora un po' come dire alterato da questa cosa speriamo di non prenderlo anche alla volta no diciamo anche poi tutte e due credo partiamo a parte la stima per Renco e tutto anche quell'intervista che ha rilasciato ci ha fatto ancora aumentare l'interesse nei confronti di Renco direi sì comunque pienamente in discesa dopo l'arrivo e non c'era letteralmente spazio per passare per tutta la gente che c'è probabilmente comunque con la maglia rossa già poi sembra più tranquillo e tutto dopo il podio quindi sì sì sicuramente errore di Renco però metti che arrivano in due con una volata tirata che devono spingere fino all'ultimo a fare il colpo di Reni questa cosa qua succede 100 volte su 100 99 volte su 100 sì anche perché poi l'asfalto perché si è visto benissimo dove era Renco poi a terra era veramente distrutto là quindi arrivi ok arrivi dalla salita uno pensa sta è affaticato ma si sapeva c'era vento contro tendenzialmente non si fanno grandi distacchi i corridori che c'erano perché comunque Renco e Robli e Robli ti aspetti magari uno sprint arrivi ad alta velocità gestita male dall'organizzazione purtroppo va bene detto ciò vediamo e oggi potevamo essere la terza giornata con gli italiani protagonisti tra l'altro subito dietro dove è caduto Evenepul c'erano delle transenne quindi esatto abbastanza non voglio dire inqualificabile però abbastanza peculiare come è stato gestito lo spazio subito dopo il traguardo da parte dell'organizzazione evidentemente si aspettavano in un arrivo in salita che la gente andasse piano però se l'arrivo in realtà poi è in discesa e al termine di una volata si arriva molto forte sì comunque concludo gli italiani di cui non avevamo grandissime ambizioni al via sì buoni corridori ma non grandissime ambizioni primo giorno Milesi Maglia rossa rossa ieri piccolo e Maglia rossa oggi Caruso l'ha sfiorata per un po' e soprattutto Vendrame Maglia punti difficile che la possa tenere visto il percorso però comunque italiani che si stanno ben comportando in questa via di vuelta sì poi il primo in classifica generale Damiano Caruso trentatreesimo però sì quello è un altro discorso però va così cioè insomma non avevamo aspettative particolarmente diverse anzi forse ci potremmo ritrovare uno Zan a lottare per una bassa top 10 top 15 eh vediamo ha già perso un po' di tempo un paio di minuti in classifica penso sia già due minuti e mezzo qualcosa di no addirittura di più perché eh perché lui aveva perso nell'acronometro era era arrivato attardato nell'acronometro per danno 1,37 mi pare quindi è indietro però dai vediamo niente che non si possa recuperare con un paio di fughe esatto andiamo un attimo a vedere cosa ci aspetta nei prossimi giorni domani da Andorra Laveia a Tarragona tappa per velocisti ma non escluderei che possa succedere qualcosa prima con qualcuno che prova magari a selezionare un po' al gruppo con un paio di salitelle più o meno stessa cosa anche mercoledì da Morella a Burriana un paio di salite prima del dell'arrivo abbastanza lontane dal traguardo ma comunque intriganti vediamo come il gruppo affronterà queste due giornate e poi giovedì altro arrivo in salita a precedere un'altra volata venerdì a Olivia e poi via via tutte le altre tappe con l'arrivo di domenica con l'ado della cruz de Caravanca Caravaca che sarà un po' il punto più il punto focale di questa prima settimana di Vuelta in Spagna sì diciamo che mi auguro che impegni permettendoci risentiamo giovedì va bene no perché spero che domani e dopo domani siano due tappe in cui non ci sia nulla da commentare esatto perché l'organizzazione in questi giorni mi ha dato parecchio da cui parlare tra l'altro ho detto giovedì e io giovedì non ci sono però va benissimo vabbè speriamo in bene dai ha visto le sorprese che ci sta regalando questo avvio di Vuelta tutto è possibile sì va bene detto questo Riccardo io ti saluto ti faccio nuovamente i complimenti anche in pubblico per lo scudetto 2023-24 con il tuo Milan e ci sentiamo prossimamente per parlare di Vuelta in Spagna ciao a tutti buona serata ciao Gianluca ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti